Sarà il terzo inverno questo che passeremo con due soli pediatri per 13 comuni. A sfogarsi così è Silvia Gioffre, portavoce della protesta delle mamme della Val Pescara che tornano a chiedere l'aggiunta di un pediatra per i 2.900 bambini, di cui 1.200 compresi nella fascia 0-6 anni, dei 13 comuni dell'entroterra pescarese ridimensionati dopo il recente pensionamento di due medici. Letto Manopello, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Caramanico, Sante Eufemia, Abateggio, Salle, Cugnoli, Alanno, Serra Monacesca, Turri Valignani, Rocca Morice e Scafa in Manopello. Questi ultimi, gli unici due comuni dell'entroterra pescarese dove assiede l'ambulatorio dei due pediatri che attualmente prestano servizio nella Val Pescara. Per capire le ragioni della protesta delle mamme bisogna però andare oltre i numeri che in realtà sono in linea con la normativa nazionale che prevede un pediatra ogni 600 bambini nella fascia 0-6 e, cartina geografica alla mano, immaginare il disagio dei genitori soprattutto in inverno, costretti a caricare in macchina il proprio figlio malato e scendere dall'Alta Val Pescara, ad esempio da Caramanico, per raggiungere i pediatri in servizio a Manopello o Scafa, percorrendo una ventina di chilometri circa, magari con neve e ghiaccio. Sulla carta la distanza non è certo proibitiva, ma nei fatti il percorso è complicato dagli ostacoli orografici che incontra un cittadino di montagna rispetto a un altro che vive, per esempio, sulla costa. Per questo la protesta va avanti, soprattutto dopo l'incontro avvenuto a maggio tra la portavoce Giuffre e Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Sanità. Il chiarimento, arrivato dal Ministero, suggerisce che la deroga i numeri per la giunta di un terzo pediatra in un cosiddetto ambito territoriale carente e di competenza della Regione, dalla quale però, dopo il contatto avvenuto il 9 aprile scorso durante l'ultima manifestazione delle mamme in piazza Pescara, i manifestanti non hanno avuto risposte. In quell'occasione spieghiamo all'assessore che avevamo preso contatti con il Ministero ed in particolare con il dottor Gaudioso, capo di gabinetto del Ministero della Salute, che ci disse che la Regione, se voleva, poteva andare anche in deroga al numero dei bambini e quindi anche nella nostra situazione avrebbero potuto concederci il terzo pediatra. Però l'assessore non ci ha più contattati. Cosa pensate di fare a questo punto? Ripartiamo sperando di non fare un intero inverno ancora in questa situazione perché veramente va peggiorando perché oltre ai due soli pediatri i bambini più grandi sono stati fatti iscrivere ai medici di base. Adesso sul nostro territorio iniziamo a perdere anche i medici di base. I bambini più piccoli, tanti, sono stati fatti iscrivere fuori distretto e quindi si sono allontanati maggiormente e quindi ecco le problematiche sono tante, sono gravi. Ora a scendere in campo accanto alle mamme c'è anche il comune di Scafa con il sindaco Giordano Di Fiore che passata la parentesi elettorale si dice pronto a dialogare con Regione e Asla di Pescara per trovare una soluzione al problema prima di procedere con eventuali diffide. Anche perché nello stesso comprensorio oltre al problema dei pediatri presto si aprirà il nuovo fronte della carenza dei medici di base con il prossimo pensionamento di alcuni dottori della zona. La soluzione potrebbe essere l'aggiunta di un terzo pediatra nell'Alta Val Pescara come Caramanico o Sante Eufemia in modo da alleggerire il carico lavorativo dei pediatri operativi su Manopello e Scafa ed evitare i disagi del viaggio a genitori e bambini soprattutto in inverno. Già in altre regioni attraverso le deroghe ci sono state e quindi hanno fatto fronte a questa esigenza ci uniremo attraverso l'Unione dei Comuni, vedremo, una soluzione va trovata. Prima dell'inverno, se c'è bisogno di andare a Roma andremo a Roma se c'è bisogno di fare subito un incontro con l'assessore Veri, noi lo faremo purché risolviamo il prima possibile questo problema. Intanto, dall'assessorato regionale alla sanità, fanno sapere che il problema non è tanto la deroga ai parametri ministeriali, quanto l'approvazione al cambio dei massimali da parte del Comitato dei Pediatri di Libera Scelta, che già in passato ha detto no. La regione è impegnata da tempo nella ricerca di una soluzione che in realtà non riguarda solo la Val Pescara, ma anche molte aree dell'entroterra. Al momento, la decisione va presa di concerto con il Comitato dei Pediatri a cui partecipano i sindacati. Spetta infatti a loro l'approvazione della deroga chiamata in causa dal Ministero, in mancanza della quale il problema continuerà a stagnare.